appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale attimi di panico nella casa del grande fratello lulù sanguinante e corsa in bagno dicendo alla sorella che giovedì non potrà essere impuntata ma vediamo cosa è successo lulù soffì soleil ed elia erano in giardino a ballare e a un certo punto si sono spostate a bordo piscina ed è qui che è successo il fattaccio soleil ha dato involontariamente una gomitata in faccia a lulù facendole sanguinare il labbro superiore lulù è corsa in bagno e si è agitata molto vedendo il labbro gonfio e sanguinante jessica le ha portato subito del ghiaccio ma l'uno ne vuole sapere di apparire giovedì in puntata col labbro gonfio riusciranno le compagnie a convincerla e voi che ne pensate fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao